Novità sul fronte del pagamento delle cartelle del Consorzio di Bonifica Terre da Puglia e per i danni causati anche nella provincia Barletta-Andriatrani dalle avversità atmosferiche. Sul punto è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggero Mennea. Buone notizie dalla Commissione di Attività Produttive dopo l'audizione da Merichiesta, dice appunto Mennea, dell'assessore Nardoni. In primo luogo abbiamo affrontato le problematiche relative all'andamento climatico e agli avversità sulle culture della regione, in particolare ai danni subiti dalle culture dei comuni della BAT. Gli impegni assunti dall'assessore, che ha già comunicato al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, sono stati i seguenti. Rivedere i rapporti di forza tra le compagnie assicurative e gli imprenditori agricoli, reperire col Ministero adeguate risorse per incrementare il Fondo di Solidarietà Nazionale, prevedere nell'ambito del PSR spazi adeguati e risorse per coprire il rischio climatico e per effettuare investimenti strutturali di difesa attiva delle culture, rete antigrandine, copertura per la pioggia eccetera, e infine derogare al piano assicurativo e chiedere una proroga dei termini in ordine ai tempi istruttori per la constatazione dei danni per l'ottenimento della declaratoria dello stato di calamità naturale. Le operazioni di verifica dei danni, è stato inoltre precisato, sono regolarmente in corso da parte degli uffici territoriali di competenza. Un'audizione soddisfacente quindi alla quale dovrà seguire la valutazione politica di prevedere una posta nel prossimo bilancio regionale per finanziare i danni in agricoltura derivanti dalle calamità naturali. È stata questa l'occasione per dirimere la vicenda tuttora in discussione relativa alle cosiddette cartelle pazze dei consorsi di bonifica in scadenza, proprio ieri 1 luglio. Nardoni ha specificato che si tratta di avvisi bonari che non porteranno nel caso di ritardi nel pagamento alla debito di sanzioni e interessi. L'assessore ha preannunciato un incontro con tutta la filiera a mercoledì prossimo e ha anticipato che il lavoro di riforma è addirittura d'arrivo con i relativi piani di accorpamento.